In LEGO Star Wars, il risveglio della forza, è finalmente disponibile su console e PC. TT Games torna dunque alla ribalta riconciliando e riscrivendo l'universo LEGO, all'interno dell'ultimo blockbuster targato Disney e Lucasfilm. Un successo scontato, che trova fondamento in una formula di gioco che non smette mai di stupire e divertire videogiocatori di ogni età, grazie a trovate di gameplay rinnovate e dalla dissacrante ironia griffata LEGO. Combattimenti, esplorazioni e puzzle ambientali rimescolano i momenti più significativi del film, inserendo oltretutto diverse storyline alternative, capaci di approfondire meglio i protagonisti. Personaggi che, come sempre, godono di abilità specifiche da sfruttare per avanzare nei livelli di gioco. Eccellenti le battaglie aeree, così come più gratificanti risultano i combattimenti, ravvivati rispetto agli altri giochi della serie LEGO. Interessante è inoltre la possibilità di costruire strutture per avanzare in maniera meno lineare nei livelli. Spalmata su 18 irresistibili capitoli, l'avventura di LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza è una delle migliori targate TT Games, un must per tutti i fan della Lightsaber.